Cesare Bollani dell'associazione Lavanda Riviera dei Fiori, il coordinatore. Ecco, sono sette anni di questa associazione. Cosa fate? Sì, questa associazione è partita sette anni fa per riportare la lavanda nel territorio storico della lavanda. In questo triangolo, questa areale da Ventimiglia a Pietraligure fino a Ormea. E principalmente stiamo lavorando con una lavanda officinalis nominata Imperia, studiata dal nostro ibridatore Franco Stalla, che è ottima per la parte alimentare perché è con zero canfora. E quindi oggi, sotto le feste di Natale, presentevamo e facevamo assaggiare i vari prodotti fatti con la lavanda Imperia. Di che prodotti si tratta? In questo periodo, in questo momento, stiamo presentando quelli dolci. Quindi parliamo di baci della riviera, parliamo di panettone con crema di lavanda, e poi si possono parlare dei caffè con i gutin, che sono con il cioccolato alla lavanda e panna. Cioè, tutta un'operazione che fa nella bosfera natalizia un certo calore, come è fatto. Poi sappiamo benissimo che questa lavanda Imperia viene utilizzata tanto anche nel salato, quindi con fare grissini, focacce e piatti di carne e di pesce. Allora, un augurio di buone feste, da Riviera 24, dall'Associazione della Lavanda, e consumiamo più lavanda perché è veramente buona. Grazie, arrivederci, auguri a tutti.